La storia sta cambiando? Il flusso del tempo, qualcosa è molto oddio A questo punto la storia No, tutto si colapsa Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Spazio Games Io sono Quel Taleale e oggi sono qui con il secondo episodio dedicato a Dragon Ball Xenoverse Quindi dopo aver visto nel primissimo appuntamento la creazione del personaggio Toki Toki Siti e un po' le varie modalità di gioco Oggi in specifico andremo a vedere la storia principale, la storyline di questo Dragon Ball Xenoverse Come vedete parte il tutto con un desiderio espresso da Trunks E questo sarà appunto un guerriero, cioè noi Che dovrà andare in aiuto ai personaggi principali, diciamo, della saga Perché? Perché come abbiamo visto nei primissimi secondi di questo video La storia principale, la storyline classica come la conosciamo dall'anime e dal manga È stata cambiata, sta subendo delle modifiche E il nostro compito sarà quello di ripristinare il corso della storia Il corso di Dragon Ball Z così come lo conosciamo un po' tutti quanti Quindi ci porterà in un tempio dove c'è il Kaioshin del tempo E dove sono conservate tutte le pergamene che raccontano la storia e gli eventi di Dragon Ball Z Adesso vi lascio vedere un attimo anche la intro Dove c'è Trunks che farà da nostra guida questa avventura Questa è la scuola dell'eternità Questa del tempo, la della storia, la della storia Tutto, tutto ciò è listato in qui Ma... Qui, guardatevi un po' di questo Special beam cannon! What? Qui, guardatevi un po' di questo Perfetto E quindi Trunks ci dirà qual è il nostro compito Quello di ripristinare la storia Sì, questo personaggio imbarazzante E vestito in questo modo Poco colorato Sono io e il mio personaggio Il mio poco personaggio che ho creato per Per affrontare l'avventura Avventura che parte appunto con la missione principale Dall'arrivo dei primi Saiyan sulla Terra Quindi Questo gioco va a comprendere tutta la serie Z Quindi partiamo dal primissimo incontro con Radish O meglio dal primissimo scontro con Radish E come detto il nostro obiettivo È quello di combattere E ripristinare l'ordine naturale Della storia come la conosciamo Ogni missione sarà Diciamo affrontata insieme a degli alleati Che sono quelli che normalmente hanno combattuto Quella Quella battaglia Quindi in questo caso avevamo Junior e Goku Che ci hanno dato una mano Alla fine ci sarà un voto In base a come abbiamo combattuto Il tempo che ci abbiamo messo E quante missioni all'interno della stessa missione Abbiamo completato E quindi ci darà degli zeni Che sono sostanzialmente le monete di gioco E dell'esperienza che possiamo andare ad utilizzare Per migliorare il nostro personaggio Come detto ci sono dei forti caratteri di GDR E quindi il livellamento è molto importante Il livellamento che maggiormente possiamo fare Attraverso le missioni secondarie Che andremo a vedere invece nel prossimo episodio E così dopo il nostro intervento Andremo a ripristinare il normale corso degli eventi E quindi il finale Dello scontro così come è stato nell'anime o nel manga E come detto il nostro Poku in questo caso Il mio personaggio Viene a Diciamo in aiuto Dei PG che hanno normalmente Combattuto quella battaglia E devo essere onesto Diciamo che per quanto riguarda L'intelligenza artificiale Si può gestire tramite Il Dei comandi che possiamo dargli Come coprici Oppure attacca Occupatene tu Attira l'attenzione Tra virgolette In modo tale da gestire un po' meglio L'intelligenza artificiale Che forse Non è diciamo A livello Del Ad altissimo livello Nel senso che ho trovato Alcune pecche Per quanto riguarda L'intelligenza artificiale Come vedete Poi io intanto vi faccio vedere Un po' le varie parti Del Del gioco Del gameplay E Quindi dopo Radish C'è Lo scontro con Nappa E con Vegeta Anche quando è scimmione Alcune cose come potete notare Non sono fedelissime All'anima e il manga Perché se qualcuno si ricorderà La coda di Vegeta Non era stata tagliata Da Krillin Dicevo Tornando all'intelligenza artificiale Alcune missioni Le ho trovate Abbastanza difficoltose Perché? Perché Gli alleati Molto spesso Sono un po' Debolucci Cioè Non molto spesso Dipende In alcune situazioni Ci daranno Una gran mano Mentre in altre Dovremmo stare Molto attenti Anche a loro Quindi cercare di Difenderli a meglio E soprattutto Acquistare delle capsule Quelle che vi avevo mostrato Nel primo episodio Per curare anche I nostri alleati In modo tale da Far ricaricare La salute Anche a loro Come vedete Ci sono anche dei bonus Come altri nemici sconfitti O se perdiamo Meno del 20% Di salute E questo andrà Ad incidere Sul voto Che possiamo ottenere Nella Nella singola missione Che può andare Da fino a Z Che è il Il voto più alto E così Noi riprendiamo Le redini Della storia Originale Di Dragon Ball E Diciamo che Per un appassionato Del manga O comunque Dell'anime Questo gioco Sarà sicuramente Apprezzatissimo Perché è un po' Un tuffo Nel passato Perché ha visto Dragon Ball Anni e anni fa O per chi Continua a seguirlo Tanto Bene o male Viene spiattellato Ogni anno In tv Quindi C'è sempre occasione Di vederlo E per chi è appassionato Come detto E È una Bella esperienza Perché Il lato GDR Io ho apprezzato Tantissimo Perché ti fa Creare il tuo personaggio E Buttarlo Nella Nella mischia Nella mischia Che come potete vedere Poi Ci metterà Anche contro La squadra Genio E quindi Arriveremo Sul Namek E affronteremo Anche i tipaci Della squadra Genio Genio Carina Bello Av Hidden Guil TENZ! e quando arriveremo a Namek faremo una scoperta cioè chi è all'origine di tutti questi cambiamenti e scopriremo questi due soggettoni questi due sono gli invasori della storia quelli che stanno cambiando la storia di Dragon Ball Z sono Mira e Towa quindi andremo a fare la loro conoscenza e li andremo ad affrontare per una primissima volta per quanto riguarda il doppiaggio come avevo detto nel primo episodio c'è la possibilità sia di metterlo in inglese che in originale giapponese questi personaggi sono molto enigmatici perché faranno la loro comparsa lungo l'arco della nostra avventura e le informazioni saranno lesinate pian piano ci sarà qualche informazione ogni volta che li incontreremo e adesso vediamo anche alla fine dell'emissione che c'è Trunks che ci fa un po' il resoconto e non solo Trunks ma anche il Kaioshin del tempo non fate caso a come era conciato il mio personaggio in modo abbastanza imbarazzante ma potremo cambiare le nostre divise in base alle missioni che andremo a concludere quelle che sbloccheremo nel prossimo episodio che andremo a dedicare alle missioni secondarie vedremo un po' più anche questo aspetto dove ci saranno valutazioni e ricompense diverse ad ogni missione e incontriamo anche il Kaioshin del tempo che ci aiuterà o meglio ci darà alcune informazioni insieme a Trunks per quanto riguarda la ricostruzione della storia della serie e giustamente su Namek un altro scontro importantissimo uno dei più belli per quanto mi riguarda è quello con Freezer la parte dove andremo ad affrontare Freezer come vedete l'aura viola è quella che ci va ad indicare che c'è stata una modificazione del tempo infatti qual è qui la differenza è quella che Goku è dovuto uscire prima dalla capsula per poter evitare la morte di Gohan e qui farà l'ingresso anche il nostro personaggio che cercherà di aiutare Goku e gli altri a sconfiggere Freezer scontro con Freezer che naturalmente partirà dalle primissime fasi quindi quando Freezer è a livello della prima trasformazione come vedete poi successivamente accadrà anche esatto lo vedremo anche trasformato e quindi ricombatteremo fino al finale dello scontro dove Goku ci ringrazierà come detto non andrò molto avanti nel senso che adesso vi sto parlando sì della storia ma senza eccessivi spoiler perché presumo che chiunque conosca la serie Z vi sto dicendo solo quello che andremo ad affrontare nel senso quello che è cambiato cosa ci fa fare la storia principale non andremo troppo a fondo ma vi lascio anche a quest'altro pezzettino di quest'altra cutscene perfetto perfetto e come vi dicevo non spoilererò oltre a parte questa prima parte dove vi ho detto che la storia sta cambiando qual è il compito del nostro personaggio e poi la storia proseguirà man mano ci darà più informazioni andremo a scoprire altri personaggi altre cause diciamo di questo cambiamento e proseguiremo nella classica storia quindi andremo ad affrontare gli androidi andremo ad affrontare Cell andremo ad affrontare Majin Buu eccetera eccetera quindi ragazzi io direi a questo punto di terminare qui questo video era giusto un'infarniatura sulla storia principale di questo Dragon Ball Xenoverse che per gli amanti dell'anime manga di Dragon Ball e della serie Z sicuramente sarà una manna io vi posso dire che mi sono immerso tantissimo nella storia ricordando quando anni e anni fa guardavo l'anime in tv e per gli appassionati come detto sicuramente si divertiranno tantissimo ad affrontare loro in prima persona questa battaglia con il loro personaggio creato ad hoc con la creazione del personaggio che abbiamo visto nello scorso episodio io per il resto ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video come sempre vi invito a visitare il mio canale perché qui sto facendo alcuni video guida poi se volete vedere più nello specifico la serie di Dragon Ball personalmente sul mio canale la sto facendo tutta quanta con tutte le missioni principali allenamenti e quant'altro quindi per chi volesse avere una visione più approfondita potete fare un salto sul mio canale che trovate in descrizione mentre qui ci vediamo con il prossimo appuntamento che sarà dedicato alle missioni e ai compiti secondari quindi tutto quello che possiamo sbloccare le varie missioni come sono strutturate gli alleati l'intelligenza artificiale eccetera eccetera e come sempre commentate per farci sapere la vostra io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo appuntamento un saluto a tutti da quel taleale iscriviti al canale Grazie a tutti.